Geeks Academy nasce nel 2016 con l'obiettivo di supportare le aziende nel reclutamento di profili legati alla data economy o industria 4.0. Qui vedete in maniera chiara un po' lo stato dell'arte del nostro network oggi quindi la presenza in cinque città italiane e il numero di docenti chiaramente notate anche dei nomi fuori dall'Italia che sono Lugano Singapore e Seul queste sono città dove noi siamo stati e abbiamo avviato delle collaborazioni poi qui è il chiaramente il patrimonio della Geeks Academy che sono chiaramente i nostri docenti di cui oggi Alessio li rappresenta ecco qui in maniera veloce l'offerta formativa della Geeks Academy strutturata in moduli quindi si va da chi vuole mettere un piede all'interno della della data economy con quello che chiamiamo starter pack un modulo un percorso di 120 ore per cominciare ad avere un'idea di quella che è la data economy per poi a salire a 240 per coloro che lavorano e che quindi vogliono dare una spinta alla propria carriera all'interno della propria azienda o altrimenti per chi vuole fare una scelta strategica il big data junior professional per esempio il junior professional è il format da 360 ore che prevede la formazione aziendale e poi abbiamo creato nell'ultimo anno il format il mastery program 480 ore quella che noi chiamiamo il percorso multi specializzazione per l'eccellenza digitale bene i percorsi che voi vedete sono a beneficio anche di coloro che partono da zero questa è la mission della Geeks Academy fin dall'inizio avviare le nuove professioni chiunque abbia passione e motivazione senza riguardo a titoli accademici o alla formazione pregressa importante da quest'anno raddoppiamo le lingue di erogazione oltre all'italiano avremo anche l'inglese quindi già stiamo raccogliendo le iscrizioni per il corso di ethical hacking in lingua inglese che faremo quest'estate coronavirus permettendo perché sarà chiaramente un percorso residenziale e chiaramente lanceremo anche il corso di data science e intelligenza artificiale con python in lingua inglese lingua inglese e quindi ci avviamo verso la conclusione un'altra bellissima notizia che ci veniamo a condividere con chi ci segue siamo dal 2019 sede di erogazione e di esame della Exin ente di certificazione internazionale molto conosciuta all'interno dell'Unione Europea nei paesi anglosassoni e in Asia dove ci stiamo espandendo e quindi forniamo tutta una serie di certificazioni chiaramente legate agli ambiti che noi presidiamo che sono cyber security, big data, coding, gaming come vedete qui, intelligenza artificiale e blockchain. Bene, io credo di aver esaurito i miei quattro minuti che normalmente mi prendo per introdurre la Geeks Academy. Per chi è curioso e vuole avere testimonianze di ex studenti è sufficiente collegarsi al nostro account YouTube dove ci sono diverse testimonianze e interviste ai nostri ex studenti e poi chiaramente molto importante l'alumni, l'alumni è chiaramente la struttura che raccoglie gli ex studenti che hanno terminato i percorsi di studio alla Geeks Academy. Ci piace chiaramente poi pubblicizzare e comunicare le collaborazioni internazionali, siamo stati tre mesi in Corea del Sud lo scorso anno e qui abbiamo avviato delle collaborazioni, prima fra tutto un accordo di partnership con il Corea Blockchain Institute. Per chi poi vorrà avere più informazioni siamo a disposizione anche dopo per le domande. Benissimo, allora io ho completato la mia introduzione, Alessio lascio la parola a te, quindi è sufficiente che insomma clicchi sul condivisione che avevi fatto prima. Perfetto. Dicevo di Alessio, docente, membro del nostro comitato scientifico e amministratore di ShamLab, una start-up innovativa che lavora ormai da diverso tempo nell'ambito della data science, dei big data, consulente di amministrazioni pubbliche, organizzazioni private, insomma la persona giusta al posto giusto, quindi ci introdurrà a magico mondo e affascinante mondo degli open data. A te la parola Alessio, grazie di nuovo per essere qui e per aver trovato del tempo da dedicare al nostro pubblico. A te la parola. Grazie Antonio, vi saluto a tutti quanti, vi vedo insomma qua nel lato destro della console di Geeks Academy e niente, per voi ho preparato una brevissima, diciamo, overview, mettiamola così, di quello che sono diciamo i dati aperti o usando il termine appunto inglese, open data. E diciamo quindi staremo assieme questi 40-45 minuti e diciamo oltre all'introduzione che ha fatto Antonio, diciamo vi darò una breve sintesi di quello che sono gli open data, perché sono importanti, qual è lo scenario in sostanza internazionale, europeo e anche italiano sul tema dei dati aperti degli open data e più in generale del mondo, diciamo della data economy, ma chiamano così, quali sono alcuni dei principali strumenti per utilizzare, fruire, cercare, diciamo produrre, diciamo se ci mettiamo nei panni delle amministrazioni o di chi condivide informazioni, ma anche per trovarli quando servono e per poterli riutilizzare. Allora, siamo in tema di, diciamo, come dire, piena pandemia, no? E proprio per raccontarvi un po' la storia di quello che sono, diciamo, gli open data, parto da, se voi notate, diciamo, questa è una screenshot fatta oggi, quindi, diciamo, nel Wall Street Journal troviamo un'immagine che pubblicizza, diciamo, un reportage continuo che il Wall Street Journal fa sul Covid, no? Però se voi andate a vedere bene qua nella data dell'articolo, si risale al 2006 e nel 2006, diciamo, una comunità di scienziati che all'epoca lavorava, appunto, sulla diaria, no? H5N1, l'influenza, iniziò, diciamo, una piccola rivoluzione, cioè iniziò a capire che quello che avveniva fino a quel momento, cioè di mantenere i dati di ricerca scientifica sui virus e sulle sequenze genomiche e quant'altro, non poteva rimanere un'informazione chiusa, ma doveva essere condivisa nella comunità scientifica. E, diciamo, uno dei primi, anzi, la prima perché si parla di una ragazza, una donna all'epoca, una veterinaria, che ha, diciamo, un po' forzato questo meccanismo, è stata Ilaria Capua, che avrete avuto modo di vedere anche in televisione in questi giorni, e che adesso lavora in un centro di ricerca negli Stati Uniti, ma che sostanzialmente, di lì a poco, cioè se vedete, questo è l'articolo del 13 marzo, il 15 marzo decise, diciamo, in modo sorprendente un po' per tutti, di prendere la sequenza genomica della Via Aria e di depositarla in un server pubblico, Gen Bank, che si chiama, e a questo punto, diciamo, rendere di dominio pubblico questa attività. Cosa, ripeto, del tutto inaspettabile. Quindi, se vogliamo, Ilaria fece un'operazione, diciamo, di open data, cioè di apertura dei dati, e l'apertura dei dati è stata ripresa e raccontata poi successivamente in una serie di articoli scientifici, però, diciamo, è stata una delle prime, proprio, esperienze, nella quale, diciamo, l'importanza di avere un'informazione, che questa informazione venisse condivisa innanzitutto in una comunità scientifica, ma in senso lato con l'intera popolazione, anche perché gran parte di questi ricercatori sono pagati, se vogliamo, con soldi pubblici, quindi con le tasse, diciamo, era partita, ok? E oggi, probabilmente, a distanza di quasi dieci anni, mettiamola così, anzi, più di dieci anni, ci rendiamo conto dell'importanza di questa azione, ok? Quindi, io parto da qui perché nel 2006 ancora il termine open data non era stato coniato, e quindi parlo, parto da un'azione, quasi, se vogliamo, un'azione che oggi potremmo dire di un hacker, no? Perché alla fine Ilaria K, questo è stato, cioè che in modo del tutto improvvisato ha deciso, anche rompendo degli schemi che erano di molto di protezione, che gli enti dovevano trattenere queste informazioni, ha deciso di prendere e aprire queste, mettere a disposizione queste informazioni. Nel 2009, anche spinto da quello che era, diciamo, la campagna elettorale che ci fu negli Stati Uniti con l'elezione poi di Barack Obama, Tim Berners-Lee, dopo poco che venne eletto proprio Barack Obama e che fece poi un'azione governativa intesa, protesa alla trasparenza del governo e anche di rendere, istituire e quindi rimettere a disposizione i dati dei prodotti della pubblica amministrazione durante un TED Talk, che non so se avete mai avuto modo di vedere, enunciò, diciamo, nell'importanza, Tim Berners-Lee è il creatore del web, no? Cioè del www per cui conosciamo noi e quindi durante questo talk chiese a tutto il pubblico di dire, guardate, qual è la cosa più importante che abbiamo nel web? Sono i dati. E disse, vogliamo che i governi, non solo come nell'esempio di Laria Capua, ma in generale, inizino a prendere tutti i dati che loro hanno a disposizione e che loro producono nello svolgimento delle loro normali mansioni e metterli a disposizione di chiunque, delle imprese, dei cittadini e di chiunque abbia bisogno. E disse, non vogliamo che spendano i soldi per metterli a disposizione, per curarli, ma che ci diano i dati che hanno, anche sporchi, anche, diciamo, non curati, però inizino a darci i dati grezzi che loro hanno a disposizione. E invitò tutto il pubblico proprio a pronunciare con lui Raw Data Now, che è diventato un motto da quel momento e che ormai sono, appunto, più di dieci anni e che, ovviamente, ha prodotto i suoi frutti in questo percorso. Di lì a poco, ovviamente, si è allargato, ha dilagato la crescita di un movimento, sia che ha coinvolto le pubbliche amministrazioni, ma anche delle società private, perché, come nel caso, appunto, dei farmaci, ovviamente anche il coinvolgimento dell'impresa, in questo caso delle aziende farmaceutiche, è fondamentale. Quindi, sia nel settore pubblico che nel settore privato, grandi corporation, è nato questo movimento con il quale, appunto, i dati che sono detenuti e vengono prodotti nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, diventano, in quota parte, nel rispetto, ovviamente, delle leggi sulla privacy e quant'altro, dati pubblici. E di lì a poco, cioè nel 2013, McKinsey, che è un analista indipendente, una firma, insomma, amicana molto importante, che analizza, appunto, gran parte di quello che è il mercato, sia della pubblica amministrazione che del settore privato e lo fa, diciamo, in modo molto acuto, quasi anche a predire quello che succederà poi nei tempi a venire, nel 2013, proprio in vista della crescita che c'era attorno al movimento degli open data, fece una stima che il mercato dell'open data poteva, diciamo, aiutare, diciamo, a sviluppare qualcosa come 3 trilioni ogni anno di affari, che 3 trilioni, cioè, equivalgono a 3 miliardi di miliardi, quindi una quantità, diciamo, di denaro e un'economia estremamente fiorente. Ovviamente, diciamo, dopo dieci anni circa da questa, come dire, questo picco di ottimismo, si è rivelato che non è stato poi esattamente così, però c'è stato un forte sviluppo. Nel 2015, anche nella comunità europea, diciamo, vi riporto alcune frasi importanti che sono state enunciate, ad esempio, dall'ex vicepresidente del Digital Single Market europeo, che era convinto, appunto, che una delle azioni fondamentali per la nostra comunità, dovesse essere, appunto, quello di creare un unico mercato digitale a livello europeo, quindi non solo un unico mercato e un unico, diciamo, sistema aperto per le persone e per le aziende e quindi per l'economia, ma anche iniziare a condividere tra i paesi le informazioni che sono disponibili, quindi conoscenza, quindi reciproca assistenza nella condivisione delle informazioni, delle buone pratiche e quant'altro. E quindi enunciò, appunto, questa frase. Quindi, di fatto, i dati e la conoscenza che se ne trae dall'analisi e dal, diciamo, se vogliamo, diciamo, elaborazione di queste informazioni, rappresenta una sorta di nuova fonte economica e quindi il dato di per sé è e diviene un elemento fondamentale. Non sempre così come, diciamo, nel caso del petrolio si trova in una forma direttamente utilizzabile, quindi che significa che spesso e volentieri il dato è presente in una forma non così facilmente elaborabile, non così facilmente, diciamo, usabile, ma è presente e spesso in grandissime quantità e necessita, appunto, di essere, diciamo, per poterne derivare valore, essere organizzato, essere in qualche modo raffinato, un po' usando sempre il paragone con il petrolio, per poter poi creare dei servizi o per costruire, appunto, dei prodotti basati su questi dati di tipo commerciale e poter essere rivenduto. Allora, quando dicevo le quantità, le quantità sono fondamentali, cioè immaginate che, se andiamo a vedere, diciamo, esistono qualcosa come, magari nessuno di noi ci sia mai soffermato a questi numeri, però 49 milioni circa, queste sono statistiche aggiornate, mi sono, diciamo, come dire, aggiornato la scorsa settimana, quindi molto di recente, quindi circa 49 milioni di pagine Wikipedia, ovviamente su tutte le lingue, non solo italiane, però si parla comunque, ad esempio, di Wikipedia in lingua inglese qualcosa come 9 milioni di pagine, che sono una quantità esagerata di conoscenza e di informazioni che sono messe a disposizione di chiunque, quindi non sono proprio open data, però sono cosiddetti dati pubblicamente accessibili, quindi dati pubblicamente conoscibili, se volete, quindi sono a disposizione di chiunque, no? E ovviamente gran parte di questi contenuti, oltre ad essere consultabili da persone, quindi da me che leggo la pagina di Wikipedia, in parte alcuni di queste informazioni possono essere anche processate automaticamente, cioè, ad esempio, io posso scrivere un software che scansiona Wikipedia facendo delle ricerche e analizza i testi che sono stati inseriti di dentro, quindi io posso in qualche modo creare degli automatismi, magari anche utilizzando dell'intelligenza artificiale, che è in grado di comprendere alcune componenti che sono presenti nel testo, alcuni significati che sono rappresentati nei testi che sono presenti su Wikipedia e su questa base riarrangiare le informazioni. Ad esempio, non è scritto qua, ma esiste un progetto parallelo a Wikipedia, che si chiama Wikidata, dove gran parte delle informazioni presenti su Wikipedia sono state strutturate invece in una forma appunto di dato, quindi dati oggettivi, e quindi che ne so, se andiamo a vedere su Wikipedia abbiamo una pagina più o meno per ogni comune italiano, per esempio, e su Wikidata, oltre a esserci presente il corrispettivo pagina che contiene, ad esempio, il nome e la geometria di quel comune, cioè dei confini amministrativi, contiene anche informazioni di tipo statistico, tipo quanti sono la popolazione, gli abitanti, i residenti, quanti sono maschi, quanti sono femmine, eccetera, eccetera. Quindi non è soltanto più un qualcosa cosiddetto human readable, cioè che lo leggono le persone, ma diventa machine readable, cioè diventa un dato che un programma, un software può iniziare a elaborare e farci le proprie considerazioni. E, diciamo, come Wikipedia, io qui ho riportato una serie di elementi, però immaginate che abbiamo qualcosa come 440 milioni circa di blog indipendenti tenuti da privati e che anche questi sono un pozzo di conoscenza, cioè un pozzo di materiale o cosiddetto user generated content, cioè di contenuti generati dagli utenti, a nostra disposizione, sulla quale noi possiamo fare le nostre analisi e ripetere sia manuali che automatizzate. Ma la stessa cosa, ad esempio, lo possono fare le compagnie telefoniche grazie a quello che noi trasmettiamo attraverso i nostri telefonini e parliamo di una quantità estremamente alta. Anche questa è fonte di conoscenza, cioè ad esempio il telefonino attraverso le celle può dare in modo molto, diciamo, elementare, quasi diciamo, dandolo per scontato e nel completo rispetto anche di quello che è la privacy, però può dare e può disporre, ad esempio, sia per le pubbliche amministrazioni ma per le stesse compagnie telefoniche, anche di dinamiche sociali che avvengono, ad esempio, per computare, che ne so, i flussi di... le famose origini, matrice, destinazione, dei trasporti, dei movimenti che avvengono durante l'arco delle 24 ore. E quindi, senza sapere che quello è il telefonino di Alessio o di Ludovica o Francesco, Fabio, Stefania o Maurizio o chiunque di voi, diciamo, la compagnia telefonica, dimenticando chi c'è dietro all'uso di quel telefono, può fare delle analisi e questi numeri, questo tipo di analisi, ovviamente, ne beneficiamo tutti perché sono informazioni che ci consentono di capire, ad esempio, se indirizzare risorse per potenziare e migliorare il traffico nell'Aurelia anziché nella casilina, ecco, tanto per dirne uno. Altrimenti non avremo strumenti o avremo degli strumenti sicuramente, senz'altro, meno puntuali, meno precisi, più rudimentali per fare questo genere di analisi. Qui quindi continuo con gli elementi, quindi email scambiate ogni giorno, qualcosa come in Italia adesso le amministrazioni condividono qualcosa come 600, anzi molto più di 600 terabyte di dati a nostra disposizione. E qui potrei andare avanti, ok, però voi vi chiederete, ok, d'accordo, bello tutto quello che ci dici, ma quali sono i dati? Cioè, come sono divisi queste informazioni? E quindi, diciamo, io uso questa slide per raccontare sostanzialmente la differenza tra le varie tipologie di dati che, bene o male, sono presenti nel panorama. Quindi, ovviamente, tutti i dati sono tutti, no? Tutti i dati disponibili. Poi abbiamo una certa quantità di dati, i cosiddetti big data, che sono, diciamo, per farla molto semplice. Però tutti quelli che, in sostanza, non possono essere elaborati nel proprio computer, no? E che necessitano di un'infrastruttura che è fatta da più computer, quindi su cloud o comunque da cluster, no? Da un'infrastruttura che prevede sia una questione proprio di storia, di quantità di dati, sia una questione di complessità e quindi di capacità di calcolo, prevede un'infrastruttura che non è quella tradizionale. Ecco, mettiamola così. Dopodiché abbiamo un solo insieme tra tutti i dati, tra i big data, che sono dati pubblici. Cioè, io per public data intendo tutti i dati che vengono in qualche modo resi accessibili. Tipo gli esempi di prima. Quindi, un public data è sicuramente una pagina di Wikipedia, ma anche una pagina, un video su YouTube, ok? Cioè, questi sono quelli che io chiamo public data, quelli che si chiamano public data. Una piccola parte di questi, diciamo, sono i dati aperti, quindi gli open data, che non sono semplicemente accessibili, ma vengono resi disponibili in modo particolare da organizzazioni pubbliche, quindi governative o non governative. Possono essere anche, che ne so, faccio un esempio, una compagnia, una utility di energetica che distribuisce la mappa e quindi il dato che io posso usare nel mio applicativo con l'elenco delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. E io mi posso fare un'app che presenta questi dati nella mia app. Ecco, per esempio, quindi l'azienda, in questo caso un'organizzazione privata, distribuisce questo genere di dato in modo pubblico, ha un accesso pubblico. Quindi, chiunque può usare e riutilizzare questi dati. Dopodiché ci metto anche in MyData, cioè i dati che riguardano me, perché bene o male una certa parte dei dati che noi produciamo, ovviamente non sempre, però parte di questi possono o in alcuni casi diventano pubblici. Quindi se io, ad esempio, vado su Facebook e condivido pubblicamente, quindi non una cerchia di amici, ma pubblicamente un commento, quel commento diventa di pubblico dominio. Se io commento in una testata giornalistica un articolo, quel mio commento diventa pubblico. Se io faccio un tweet, quel tweet è pubblico e così via. Quindi c'è parte di quello che io chiamo i miei dati, che sono pubblici, quindi si intersegano con il rosso, parte che diventano open government data, ad esempio i dati statistici sulla popolazione, che sono anonimizzati, quindi non sono riferiti a me come persona, ma diventa, diciamo, io divento un numero, no? là dentro. E quindi tra i residenti di Roma c'è sicuramente un'unità che sono rappresentata da me. E ovviamente nella sfera dei my data c'è una parte che sono solo miei, cioè che solo io conosco e quindi fanno parte di tutti i dati, ma diventano in qualche modo un oggetto mio, che nessun altro vede. Vediamo adesso, diciamo, più in particolare la distinzione nei dati pubblici e un'analisi un po' più dettagliata di quelli che sono poi i dati aperti o gli open data. Quindi i dati pubblici sono per definizione proprio quello che viene detto conoscibili, cioè significa chiunque può accedere e vedere e conoscere questo genere di informazioni. Ovviamente ci sono alcune informazioni che non sono pubblicamente conoscibili, ad esempio i segreti di Stato, no? Ok? E quindi non vengono messi a disposizione. Ma ce ne sono una grande quantità di dati, tra virgolette, che non sono, diciamo, a disposizione ma che non possono diventare dati conoscibili. anche tutti quelli che sono protetti, ad esempio, da legge sulla privacy, cioè lo Stato magari ne ha a disposizione, accede a queste informazioni, però non diventano di dominio pubblico. Quando i dati pubblici sono anche disponibili gratuitamente e accompagnati da una cosiddetta licenza di riuso, allora questi si chiamano open data o, è detto all'italiano, dati aperti. C'è da dire che i dati aperti, quando sono accompagnati con una licenza, possono essere gratuiti e anche, diciamo, disponibili a pagamento purché il prezzo, diciamo, con il quale io accedo a questa informazione sia marginale, cioè non sia che io pago estremamente, il prezzo è estremamente alto, è semplicemente una specie di rimborso, no? Per il fatto che io debba accedere e che qualcuno debba mantenere, mantenere un'infrastruttura per gestire queste informazioni. Quindi, se vogliamo una specifica più puntuale, diciamo, innanzitutto i dati aperti sono liberamente accessibili, come abbiamo detto, ma sono anche privi di brevetti. Ad esempio, se voi immaginate che dovete fare dei rilievi aerei, come sono stati fatti in passato, ovviamente i rilievi aerei hanno dei costi estremamente alti, quindi magari ci sono anche dei brevetti perché le tecnologie che voi impiegate per fare questi rilievi fotogrammetrici dall'alto, dei rilievi o addirittura da satellite, no? I dati che vengono fuori, ovviamente, non è detto che diventino liberamente accessibili, magari sono consultabili, sono a disposizione dell'amministrazione o degli enti di ricerca, però ci sono delle condizioni sotto che ne limitano il loro riutilizzo. Bene, in tal caso non si parla di open data, cioè si parla magari di dati accessibili, di dati pubblici per un certo serie di riutilizzatori, ma non pubblicamente, quindi generalmente accessibili. Quindi, mentre invece gli open data sono accessibili, privi di brevetti, non c'è il limite di riutilizzo, sono accompagnati da licenza d'uso, si tende a preferire e a definire open data tutti quelli che non prevengono l'uso commerciale, cioè se io prendo questi dati li posso anche sfruttare commercialmente, perché un dato che è liberamente accessibile, accompagnato da licenza, ma non è un buone dei vincoli al riutilizzo, diciamo, in genere non rientra nell'accezione open data. Bene, ci sono molte iniziative che sono nate sia lato, diciamo, coloro che mettono a disposizione i dati, sia di coloro che li riusano. E quello che vedremo adesso è una carrellata, in sostanza, di esempi. Ad esempio, questo qua risale un po' al passato e è stato fatto, diciamo, per diversi anni di seguito, dalla World Wide Web Consortium, che è un'organizzazione con a capo Tim Berners-Lee, è un'organizzazione, diciamo, internazionale, anche se la sede è in Inghilterra, e sostanzialmente loro si sono preoccupati di rilevare, diciamo, in tutti gli stati, diciamo, internazionali, quindi mondiali, lo stato di apertura e di un'analisi molto puntuale di quale informazioni ciascuno stato metteva a disposizione. Hanno fatto una sorta di classifica, cioè un barometro per orientarsi e capire se alcuni stati, diciamo, stavano aprendo e mettevano a disposizione una certa quantità e anche una quantità di dati di impatto, cioè di alto valore, oppure meno, oppure magari alcune informazioni erano disponibili, altre meno e così via. Ora, quando io dico queste cose, cioè vi faccio per capire l'impatto, cioè vi dico, che ne so, i dati sulle elezioni, no? Cioè i dati sulle elezioni significa avere accesso pubblicamente ai risultati elettorali, voto per voto, sezione di censimento per sezione, candidato per candidato, ogni giorno è stato fatto lo scrutinio, quindi con estremo dettaglio poter accedere in modo trasparente a tutte le votazioni, a tutti i dati che sono stati, i risultati elettorali che sono stati prodotti, ok? Ecco, tenete presente che questa informazione non è così, cioè per noi è data per scontato, no? Però non è così scontata in qualunque posto del mondo, no? Ecco, quindi loro si sono preoccupati di, come dire, fare in modo che queste informazioni di base, che per noi sono appunto, come dire, ormai cose date per scontato, diventassero tali anche nei paesi dove non lo sono. Ma faccio per altri esempi, no? Che ne so, ad esempio nel mondo anglosassone, tipo in Inghilterra, negli Stati Uniti, oppure anche in Scandinavia, ma anche, diciamo, in Francia, gran parte dei dati che riguardano le società, quindi parlo delle compagnie, SRL, società anonime, SPA, eccetera, eccetera, sono pubblicamente accessibili, significa che c'è un registro dove io entro, faccio una ricerca e ottengo i dati di quanto hanno fatturato, chi sono gli amministratori, chi sono i soci, eccetera, eccetera. Io ho accesso libero e illimitato a questo genere di informazioni, quindi non devo neanche pagare un centesimo. In Italia, che è, come dire, un paese avanzato, eccetera, eccetera, queste informazioni sono disponibili, sono accessibili, ma bisogna pagare. Quindi non è che non ci sono o che non sono accessibili, ci sono, ma devo pagare una cifra marginale per quello che è, però la devo pagare. E, diciamo, se mi serve ovviamente un accesso più ampio, quindi, che ne so, scrivere un programma che fa un'analisi automatizzata su questi dati, devo comprare, magari, degli abbonamenti che hanno dei costi un po' più alti. Ok? Quindi, però, un accesso generalizzato a questo genere di informazioni, machine readable, per esempio, in Italia non è disponibile, a meno che non si, non possa o non voglia, appunto, spendere un sacco di soldi. Quindi l'open data barometer non ha fatto altro che, diciamo, monitorare questo set di informazioni, un paniere di dati, e ha fatto una classifica anno per anno su quello che è disponibile. Vabbè, io qui metto altri esempi, ad esempio in Africa, che conosco, in Giappone, ad esempio è stato il movimento dei dati aperti esploso letteralmente dopo Fukushima, perché, diciamo, appunto, loro si sono resi conto che nel momento in cui avevano necessità di accedere a questi dati, ad esempio scatenati dall'emergenza dell'esplosione della centrale nucleare, quindi dati, che ne so, sulle reti stradali, sui trasporti pubblici, su come accedere a quei paesi, quali erano i punti di accesso, se c'erano dei ponti che magari impedivano il raggiungimento di alcuni paesi o altro, si sono resi conto che tutte le informazioni che necessitavano, ma le stesse amministrazioni, non erano disponibili o erano poco riutilizzabili, e quindi non erano in qualche modo pronti, preparati, da un punto di vista informativo, ad accedere e avere a disposizione queste informazioni. E quindi da lì capirono l'importanza di coltivare la produzione del dato, ma anche la restituzione, la messa a disposizione di queste informazioni. Ci sono vari, uno di questi è stato fatto da una comunità internazionale completamente aperta, chiamata Open Knowledge Foundation, quindi una fondazione per la conoscenza aperta, e che si è fondata, poi una specie di Open Data Barometer, però che ha consentito di fare un'analisi sui vari Open Data che sono a disposizione di vari paesi e soprattutto, lo vedete segnato in rosso, quelli che sono quelli non presenti, quindi che ne so, ad esempio in Italia i dati delle società risultava come un dato disponibile, ma non in un'accezione propriamente detta Open Data. Bene, vado avanti un po' più veloce perché abbiamo quasi raggiunto le nove, quindi anche a livello europeo esistono un paio di portali, uno chiamato appunto il portale della comunità europea, che contiene appunto tutti i dati messi a disposizione dalle istituzioni europee, ma esiste poi l'European Data Porta che invece è una sorta di concentratore, cioè dove tutti i dati messi a disposizione da tutti i paesi afferenti alla comunità europea possono essere ricercati in tutte le lingue e quindi io posso trovare sia i dati dell'Italia ma anche della Francia, quindi posso prendere, che ne so, tutti i dati legati ad esempio ai trasporti, quindi le società di trasporto che mettono a disposizione gli orari oppure il tempo reale del passaggio degli autobus e quant'altro, anziché dover andare a cercare questi dati nei singoli paesi o addirittura nelle singole città o nella singola regione, lo posso fare in modo centralizzato usando questo portale. Ci sono non solo questo genere di informazioni ma ci sono anche nel portale europeo contenuti di tipo divulgativo, quindi approfondimenti che potete fare, una serie di librerie, di esempi, applicazioni, quindi se volete è un'ottima fonte dove poter trovare materiale oltre ai dati divulgativi sul tema degli open data. Nella comunità europea ci sono anche, sono stati fatti ulteriori report anche sul grado di maturità e quindi un'analisi un po' più puntuale se volete sullo sviluppo degli open open data e anche sulla maturità che i vari paesi hanno nel tema più in generale se vogliamo del digitale. E' molto interessante perché presenta un quadro che si evolve dal 2016, 2015, quando loro hanno iniziato col primo portale, fino ad oggi, quindi esiste un maturity report al 2019 e quindi abbiamo uno specchio che si è evoluto e possiamo da lì andare a fare diverse analisi. In Italia esiste un portale che si chiama dati.gov.t dove sono raccolti tutti i dati italiani e ci sono gran parte dei data prodotti dalle pubbliche amministrazioni, c'è un'ottima documentazione, anche in questo caso ci sono degli strumenti, c'è il paniere che definisce quali sono tutti i dati divisi per le categorie, quindi sulla salute, sull'istruzione, sulla sicurezza e quant'altro, e sono organizzati in questo portale attraverso il quale potete fare delle ricerche e tirare fuori e cercare i dati che vi servono. In più, dopo che è stato creato il piano triennale in Italia, il piano triennale è stato creato un team, si chiama Team Digitale, appunto, che oggi ha un suo ministero e hanno avviato una piattaforma big data chiamata portale, piattaforma digitale di dati nazionale, nazionale dei dati, il cui codice è su Github disponibile all'indirizzo github.com.italia e lì trovate tutto in repository e addirittura un forum aperto ai cittadini dove chiunque può partecipare, contribuire, fare domande, sia necessità di dati ma anche di vuole affrontare i problemi oppure è stare utilizzando parte delle informazioni messe a disposizione e ovviamente ha domande o curiosità da chiedere. Ovviamente questo perché? Perché il movimento Open Data ha scaturito anche e ha in qualche modo indirizzato la necessità dei cittadini che si informano sempre di più anche di accedere a questi dati e quindi ci sono degli infomediatori tipo giornalisti ma anche associazioni che ovviamente fanno dei reportage, analizzano in modo più profondo le informazioni ai dati che vengono messi a disposizione ma le persone iniziano a capire come gira il mondo e quindi chiedono informazioni alle amministrazioni perché questi dati diventino di dominio pubblico. Ad esempio questo è un caso reale sull'inquinamento per amianto ma adesso se voi avete seguito sulla PFAS nel Veneto è avvenuto un disastro e quindi questi che producono queste sostanze impermeabilizzanti ad esempio ci è voluto dieci anni ma piano piano sono stati sono usciti sia dati appunto sull'incidenza dei tumori ma anche sulle aziende, sulle quantità, sulle analisi fisiche delle acque, le falde e quant'altro sono diventati dati di accesso pubblico e ovviamente sono stati come dire anche avviati dei procedimenti penali e quant'altro quindi ma tutto a partire anche da non solo accedere alla notizia cioè al fatto ma anche ai dati che diventano parlanti e oggettivanti di quello che avviene. Alcuni esempi di alcuni dati ad esempio esiste una piattaforma chiamata Italia Sicura dove tutti i dati sulla pericolosità del territorio sono messi a disposizione quindi pericolosità sia da un punto di vista di frane sia da un punto di vista idrogeologico possibilità di alluvioni quindi vi faccio solo un esempio dove oltre a essere accessibili e consultabili anche i dati sulla pericolosità, sui contorni delle aree soggette a rischio e quant'altro sono disponibili quindi li posso prendere, li posso scaricare, li posso elaborare, posso fare le mie considerazioni, i professionisti li possono usare quando devono costruire, se io vado a comprarmi casa posso considerare queste informazioni prima di acquistarla quindi diventa, se volete, un'informazione che non è soltanto a disposizione ma diventa anche un patrimonio, se vogliamo, un bene comune, allo stesso modo di come è la sanità, di come è l'istruzione, quindi anche i dati iniziano a essere e a rivestire un ruolo fondamentale per l'esercizio di una sana democrazia come la nostra. L'ultima cosa che vi dico è su un altro esempio che è quello di soldi pubblici che io ho provato poco fa, cioè ieri a vedere e purtroppo vista la situazione pare che non funzioni però è un esempio dove l'amministrazione ha messo a disposizione, ad esempio, tutti i dati sulla spesa, sui pagamenti che l'amministrazione fa e quindi io attraverso questa piattaforma posso monitorare, ad esempio, comune per comune, provincia, regione, la scuola, tutti i pagamenti che vengono effettuati da una determinata amministrazione. Ci sono poi anche altri esempi, quindi, che ne so, nei comuni in Lombardia, la regione Lombardia, il comune di Bologna, il comune di Milano, hanno e pubblicano non soltanto dati ma anche coloro che riusano queste informazioni, quindi hanno messo a disposizione, diciamo, delle pagine dove queste informazioni vengono appunto rese disponibili e quindi pubblicano sia i dati che gli esempi di come vari utenti, vari cittadini, varie aziende usano i dati che loro mettono a disposizione. Ad esempio, l'elenco di tutti i veicoli che girano in Italia è disponibile, sono, diciamo, dei big data perché sono veramente tanti, perché si vale 50 e rotti milioni di veicoli, ma sono disponibili. Bene, allora, stiamo arrivando al termine, perché sono le 10, non so se Antonio vuole riprendere in mano la situazione, io non sono riuscito a completare la presentazione, però Antonio vorrà condividervi le slide oppure il materiale, metterlo a disposizione, in modo tale che se voi avete delle domande magari le potete rivolgere tranquillamente anche ad Antonio. Assolutamente, assolutamente. Allora, diciamo che siamo giustificati perché abbiamo avuto un momento di blackout e quindi va assolutamente bene. In realtà, noi ci ritagliamo poi un po' di tempo per fare anche delle domande, no? Tu prima avevi fatto una distinzione tra dati pubblici e Open Data, nel momento in cui sono gratuiti, quindi il concetto di gratuità caratterizzano il tema degli Open Data. Assolutamente sì, sono gratuiti e non solo, vengono accompagnati in genere con una licenza di uso, quindi significa che non soltanto sono disponibili gratuitamente, ma sono anche giuridicamente accompagnati da degli strumenti che mi consentono di utilizzarli. Ad esempio, vi faccio alcuni esempi proprio pratici, cioè non so se voi usate, vi è mai capitato di usare i mezzi pubblici, usando i mezzi pubblici, dite dal percorso da A, non a piedi, ma attraverso i mezzi pubblici, ad esempio su Google Map o un altro sistema di qualunque di routing su mappa, bene, gran parte di questi sono non fatti, sono algoritmi fatti magari da chi appunto mette a disposizione il servizio, ma i dati ovviamente non sono dati, che ne so, nel caso di Google Map, di Google, ma sono dati che nel caso vivete a Roma, ATAC o le altre aziende di trasporto, che ne so, COTRAL, se si parla della Regione Lazio, o Ferrovie, se si parla addirittura dell'Italia e così via, mettono a disposizione. Quindi, se non mettessero a disposizione questi dati in una modalità open, aperta, di questo tipo, ovviamente non sarebbe possibile neanche avere quel servizio. Tant'è che in molte aree, dove non ci sono questi dati, oppure non sono resi disponibili, in modo aperto, il servizio non c'è. Certo, certo, certo. Guardi, io ne approfitterei del fatto che se qui anche per commentare un po' un fatto di attualità, no? Sì, è uscito adesso quest'articolo di Wired che anticipa come il governo sarà in big data nell'emergenza coronavirus. Sappiamo che c'è una certa difficoltà a contenere il contagio e quindi si comincerà a sperimentare un po' il contact tracing. Sappiamo che ci sono delle esperienze nell'uso dei big data per contenere il contagio che sono state fatte in Cina, ma poi addirittura in Corea del Sud. Prima parlavamo della Corea del Sud, la Corea del Sud torna perché qui si è addirittura arrivati a rendere pubblici dati che riguardavano la geolocalizzazione, il fatto di essere un contagiato e di aver messo questi dati su un'app per cui chiunque poteva sapere se nelle vicinanze vi fosse una persona contagiata. Quindi oltre a essere controllati venivano anche resi visibili ai privati. Per poi arrivare invece a Singapore dove oltre a geolocalizzarli come faceva la Cina, oltre a metterli in un'app pubblica come ha fatto la Corea del Sud, a Singapore inviavano anche dei messaggi per cui chiedevano di farsi dei selfie per mostrare effettivamente dove ci si trovava. Allora questo è quello che è il limite tra poi privacy, big data, uso dei big data, giustificazione dell'uso dei big data. Ci sono vari esempi, però penso che quello più interessante sia l'uso appunto dei dati che le compagnie telefoniche hanno in qualche modo a disposizione e che può essere di grande aiuto per capire i flussi di movimenti su larga scala. Quindi avendo una sorta di, come dire, non una situazione uno ad uno, ma più un'analisi massiccia su un luogo, quindi su una città a copertura, che ne so, su tutta l'area di Milano o su tutta la regione Lombardia, ovviamente sono dati che operatore per operatore ha a disposizione sulla propria rete, quindi non esiste una visione, diciamo, multi-rete, multi-operatore ad oggi, però dei singoli operatori sì, quindi io ho la possibilità appunto di vedere come ci sono questi movimenti, quindi se io ho un bacino d'utenza conosciuto su Milano che è in condizioni normali, quindi pre-virus, diciamo, pre-epidemia, aveva, movimentava, che ne so, un certo numero di dispositivi nella città a determinate ore, numeri che sono ovviamente conosciuti, li possono affrontare con quello che avviene oggi e quindi sapere quant'è il tasso di persone che effettivamente hanno aderito a una questione di stare a casa oppure si muovono. Ovviamente parte di questo sarà fisiologico perché magari sono, che ne so, quello che deve andare effettivamente al lavoro perché fa un lavoro che ha previsto che si debba muovere, quello che ovviamente lo deve fare perché deve assistere le persone, eccetera, eccetera, però si capisce effettivamente se è una quantità estremamente alta, un po' di meno, se è tollerabile, cioè rientra in cui magari ci siamo dati oppure no. Quindi già questo è un forte indicatore, cioè vi dico questo, il Wall Street Journal ha messo una statistica del tasso di movimento, cioè il tasso di movimento proiettato in base, andando a contare le persone che entravano in alcune fermate della metropolitana. Quindi che significa? Sono andati lì con proprio degli cristiani che sono messi a controllare, a segnare quante persone entravano, uscivano da una fermata. Avevano i dati in tempi cosiddetti di pace, li hanno confrontati con quello che succede oggi e hanno fatto delle stime, no? Per dire se le persone in qualche modo stanno effettivamente rispettando una quarantena oppure no. Hanno sbagliato, hanno toppato perché anziché monitorare Milano hanno monitorato Roma e guarda caso Roma, che è avvenuta dopo, l'adesione alla quarantena è stata molto, ma molto superiore di quella di Milano, perché è avvenuta con una sensazione, una percezione dell'urgenza che era molto più avanti rispetto a quella che c'era a Milano la settimana prima, quando invece in piena, tra virgolette, come dire, diffusione del virus la gente continuava a girellare, a fare aperitivi, eccetera, eccetera. A Roma è avvenuta una settimana dopo, quando è arrivata, anche se a Roma c'erano pochi casi, comunque la gente effettivamente si è chiusa in casa. Diciamo qui questo controllo, questo contact tracing avviene essenzialmente con dati anonimizzati e ovviamente le celle telefoniche delimitano un'area nel territorio, quindi io in quell'area si dice contro le pecore, no? So quanti telefoni, quanti dispositivi ci sono agganciati e quindi ogni porzione del mio territorio è rappresentata appunto da una o più celle addirittura, perché poi più celle possono agganciare la stessa area del territorio, io posso sia agganciarmi a una che all'altra, diciamo, mettiamola così, è fondamentale per esempio per la triangolazione, no? Cioè per raffinare la posizione, però un posizionamento nell'arco di massimo 20 metri, quindi significa molto puntuale, ecco, e quindi indipendentemente, ripeto, da chi è la persona, cioè se maschio o femmina, da tutte le analisi che posso fare, ovviamente le compagnie telefoniche possono, dispongono di questi dati, finora non li usavano, cioè fino a poco tempo fa non li usavano, adesso li usano in modo massiccio, quindi non solo, cioè li vendono in alcuni casi, in altri casi li usano in modo massiccio proprio perché sono una fonte di analisi non indifferente, ad esempio come l'avevo appena detto. Io credo che prendiamo il rispetto della privacy, perché ovviamente nessuno dice che quello è il telefono di quella determinata persona, però dopo di vista di analisi sociale ci danno delle informazioni molto precise, più precise di qualun'altra cosa. Assolutamente, assolutamente, ripeto, sono anonimizzati, non arriviamo ai livelli che sono stati toccati in Corea del Sud, in Cina dove chiaramente lì c'è un numero nazionale associato ad una persona, associato ad un smartphone e quindi è tracciabile l'identità della persona, tanto più se risulta pontaggiata e quindi è un vero e proprio controllo, lì siamo chiaramente... Sì, sì, assolutamente, quello che hanno fatto ad esempio la Roma 3, l'ASL 3 di Roma, ha fatto un'app che dà questa possibilità, però è volontaria, cioè se sono io che mi installo l'app e decido io di condividere questa informazione con il mio nome e quant'altro. Cioè, io è stato scritto che decido se so di essere contagiato e mi upload come... Sì, ovviamente questo è dal privato all'istituzione, poi l'istituzione non è che restituisce questo dato fuori, lo usa solo l'istituzione, quindi significa che però diventa una comunicazione appunto da me verso le istituzioni volontariamente e quindi io in qualche modo posso ricevere sia raccomandazioni oppure dei suggerimenti, ma anche, non dico un controllo vero e proprio, però, quindi l'amministrazione non è che mi controlla, però mi aiuta appunto a rispettare, è un po' come il famoso bottone, no? Per le persone anziane, per il controllo a distanza, ecco. Per chi è di trascendentare. Maurizio ci scrive, no? Dice, ma con Google negli anni scorsi riuscivano a prevedere il picco dell'influenza con le search del motore Google con buon successo. Esatto, però quello era appunto predittiva, era un'analisi predittiva, cioè predittiva perché loro intercettavano un aumento, diciamo, delle richieste, delle ricerche, da una determinata area, e ovviamente questo era l'indice che in quell'area magari si era ammalato, esatto, esattamente. Ovviamente qui parliamo di qualcosa che è molto più subdolo, no? Eh, magari uno cerca Covid, ma non è detto che sia ammalato, ecco. Cioè, io so che chiunque di voi... Forse non si vuole ammalare. Esatto, esatto, esattamente. Quindi sì, c'è molta speculazione. Però ecco, una cosa importante, per esempio, proprio nell'ambito Covid, è notizia di ieri l'altro, che è stato aperto un dataset su Kegel, che è una... Ve lo scrivo qua nella... È una piattaforma nella quale si fanno, in sostanza, delle challenge, cioè quindi, che ne so, c'è una sfida mondiale, o un'azienda ha bisogno di affrontare un problema e non riesce, allora mette pubblicamente a disposizione i propri dati che rappresentano proprio le cose vere, reali, che avvengono. Ad esempio, in questo caso, è stato aperto circa 20.000 paper, research paper, cioè articoli, no? Di riviste scientifiche, articoli di ricerca e quant'altro. Cioè, ma è una quantità veramente enorme, al punto che trattano argomenti legati alla virologia. E, diciamo, perché è importante? Dici, vabbè, ma quelli che erano già aperti prima, no? In ambito di ricerca. Certo, però tutti insieme, tutti che avvertono un argomento e soprattutto nessuno, nessun essere umano è in grado di leggersi 20.000 articoli in fretta, no? O anche, se volendo, anche se si prendesse un anno, sfido a leggersi 20.000 articoli di scientifici, no? Quindi, il senso di questo è perché stanno chiedendo di implementare una intelligenza che riesca a trarre da una così grande mole di dati, e in questo caso, l'uso sarà sicuramente di usare la cosiddetta NLP, no? Natural Language Processing, cioè la capacità di alcuni algoritmi di processare il linguaggio naturale, ricavare da questi articoli, quindi trarre dagli articoli scientifici, nozioni o elementi che possano essere utili al raggiungimento o all'avanzamento della ricerca in ambito legato al codico, ok? Quindi significa sequenze genomiche di altri virus, quindi estrarre queste informazioni automaticamente, cioè tramite l'intelligenza artificiale. Ovviamente per fare questo io devo avere una cosiddetta Knowledge Base, cioè per imparare a processare, a riconoscere gli oggetti dentro le immagini, ha un'intelligenza artificiale, non serve qualcuno che gli insegna, gli serve miliardi di immagini, no? E qualcuno gli dice, dentro a queste immagini c'è una banana, qua c'è un gatto, e l'algoritmo imparerà a capire che tutte le immagini del gatto hanno determinate caratteristiche, no? E le banane sono fatte in un certo modo, e così via. Quindi, esattamente, cioè il problema sono dati buoni, ok? Esattamente, esattamente. Va bene, lì si parla di articoli di ricerca, quindi in teoria sono dati di una certa qualità. Dovrebbero essere attendibili. Va bene. Bene, bene, allora, io direi che se non ci sono altre domande da parte dei partecipanti, io vi segno il link del prossimo evento della settimana prossima, si parlerà dell'universo MongoDB, quindi resteremo in tema di big data, quindi Mongo da Humongous, quindi enorme, quindi questi dati a un certo punto non li gestiremo con MySQL, con un database relazionale, ma con un strumento di gestione di dati, quindi non relazionali, avremo Alessandro, nostro docente, che ci introdurrà a questo strumento prodigioso. Io a questo punto ringrazio veramente Alessio, che è riuscito a trovare, a ritagliarsi del tempo e a dedicarlo a questo tema, poi chiaramente alcuni dei nostri studenti presenti un paio credo che lo troveranno a lezione, perché il suo modulo di open data è all'interno del percorso, quello importante da 360 ore o 480 ore. Saluto chi è rimasto con noi fino a quest'ora, vi invieremo il link della registrazione della serata ripulito dei momenti di crash che abbiamo sperimentato questa sera. Io ho dato la colpa chiaramente al fatto che col coronavirus sono tutti collegati alla rete e quindi sinceramente non lo so. E quindi è sicuramente così. Va bene, di nuovo una buona nottata a tutti e ci vediamo il prossimo giovedì. Grazie di nuovo Alessio. Ciao. Ciao. Ciao.